Lodovico Camilletti è il nuovo comandante dei vigili del fuoco per la provincia di Pesaro Urbino, una persona d'esperienza che ha iniziato il suo percorso nel Corpo Nazionale nel 1980 come vigile volontario ausiliario. Poi è stato assunto nel 1986 e dal 2007 ha iniziato il servizio presso la direzione regionale delle Marche. Durante la sua carriera ha svolto attivamente sia servizi operativi sia ruoli di coordinamento, anche negli interventi di soccorso come per il sisma in Umbria, Marche e all'Aquila. Sono molto onorato e soddisfatto di aver assunto questo incarico in un territorio che è un territorio della mia regione tra l'altro ricco di storia, di cultura, musica e quanto altro. Un territorio ricco anche di fragilità naturali dove siamo intervenuti molto spesso in questi ultimi anni, soprattutto causa all'Uione. Continueremo a farlo nel caso ci sia necessità con tutte le nostre forze. Camilletti subentra il comandante Leonardo Rampino, ora in servizio a Macerata. Il comandante Rampino nel congedarsi ha salutato e ringraziato il prefetto di Pesaro Urbino, tutte le autorità locali e le istituzioni territoriali per la fattiva collaborazione ricevuta e nel contempo ha rivolto un saluto a tutti i cittadini della provincia. Ieri ad Ancona il comando regionale durante la cerimonia per il passaggio di consegne ha illustrato i cambi al vertice che riguarderanno la regione a stretto giro. Camilletti e Rampino conoscono il territorio e per noi sono un valore aggiunto, ha detto la direttrice regionale dei Vigili del Fuoco Cristina D'Angelo durante la cerimonia.